ma si magnifico capitolo 4.5 anche se in verità sarebbe atto 4 barra 5 va bene in cubo di periferia ci avviciniamo alla fine del gioco gazzarola allora cos'è appena successo che non mi ricordo ah si ho appena finito quel livello stronzo stein è un po che tanto che non il gioco non mi ricordo più come si fa potenziamenti mingga è una mazza cioffè troppo vabbè dai non importa va bene così yeah cazzo perché ho il nuovo mitra che fa figo cioffè non c'è più per nessuno adesso col mitra automatico qui a parte che ora che ero notato ah no adesso non più guardando un po di un po il fucile di johnson quando era agli inizi e confrontando con un po di armi da fuoco cazzo mi veniva a dire che era quasi un p90 johnson all'inizio non c'è troppo cazzo col gioco è però una mia riflessione inutile non siete magnifici se cercate di ammazzarmi comunque ecco eh gran pezzi di ok che ha? hai voglia cazzo la comodità Deve avere un mitra automatico. Bah! Allora f*** Ahia! Esatto! Buongiorno! Sono un tuo amico. Apri la tua mente. Beh, non ho la tua testa però. Magnifico! Allora... Outponer. Ovvero è una pistola che spara le bombe. Chi urla? Allora... 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 Dammi le gemme, le scere! Quel cazzo che è! Dove c'è? Dove c'è? Chi ha colpito? Allora... Le volte ti chiedi... Ma da dove arriva? Minchia! Allora... 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 Anche... Non mi piace, ma hai appena appena di farlo. L'ha già stato un'ottima demon più lunga che nessuno di noi può ricordare. Un po' fanatici ha even deciso di lo ha chiamato. Come se fosse che ci salvavano. Ssssssssss Tutto questo casino per arrivare qui Cazzo Grazie eh Siamo praticamente in Flemming's front yard Siamo praticamente in Flemming's front yard Siamo sicuri che dovremmo prescire ? Sono un mexican, Johnson Non un mexican Bravo G, sono l'origine Cazzo Prendete ad esempio Zorro Ma fin fine sono fratelli Lui Garcia Ahahah Sembra che è solo che faccio un cavallo Ueeh Mitram è magnifico Faccio scorta Effi quanti colpi Sono armati Dobbiamo trovare il modo di rinforzare A vostra avventura Ciao Ciao Avrei tutto digliattivo forse Ma è la stessa cosa Sì Devevi drinkarti le robe senza pagare eh Dì la verità Ok Ahahah E' in effetti Ahahah Devi drinkarti delle robe senza pagare eh Sì, no? Perché i demoni saranno fuori per ottenere i loro fatti fuori? Perché le persone bambino? Ehm... In ogni caso, Flemming forza i demoni per attendere. Lui piace il sentimento di un fai fuori. Muoviamoci. Prima faccio meglio è. Sull'altro dov'è che stava che non mi ricordo. Ok. Un attimo, feo, oscurità di minchia. Buona. Ciao. Ehm... Scappa Garcia! Non devo stare a farmi vedere che si è aperta la porta. Lo so, lo so. Filaglielo. In mano. Ah... Ok. Non bevi la scorta. Ah... Mi sono messo a soldi, 148. Beh, va bene così dai. Oddio. No. No! 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 Buona impresa. Vabbè. No! No! A presto! Magnifico, eh! Piasseria! Però un crepo no mai questi! Ce n'è ancora? Ma che cazzo! Che mira pessima che ho! Non è tanto magnifica! Questo è magnifico! Uccisione sulla larga scala! Oh no! Per vedere che sono fuori forma qui, mi stanno pestando come niente! Voto! Eccolo! Avildo! Un po' più alito! Un po' più allo? Un po' più allo! Un po' più allo? Che cazzo ha fatto? Boh Ma beh Non ci ho capito una mazza ma va bene così dai Buona andiamo là in fondo Ciao Cazzo che saltone Per fare un metro di scaleno Che fatica Non c'era niente Mi spavola scaprese sana She would make that for me Whenever I came back from the heart I know it's your favorite Although how you can have an appetite now is beyond me I am always hungry for my own head bravo garcia bravo una nuova storia la bellezza è cieca mi erano la fortuna o è orma, no è cieca ascoltiamo la storia alla nuova bravo, bravo un'attività di applausi che si tratta di Justine come le rosi riuscirono sulla stage merita mi sembrava, penso mi pensava bittermente sono più il tattore del mille dopo la scuritò si ritirà su la pioggia si lasciano la valutazione avano in piedi con mera un po' gilassare e un girono ruota l'entrazione e legati altri è magnifico lei è vera Sì, i giorni chiedono a te il migliore soprano del 19th century. Si guarda il film, si chiede il tuo cuore. Tutto il tuo cuore di te amo. Stupido Henry, moaned Justine, as she examined her profile in the mirror. No real man could love a fat, like me. She tried adjusting her liver. Disgusting. She waited for the sigh, but today, in this aspect, it was different. There was a rustle, a metallic thunk. Good evening to you, my lady. She heard the clack of the door. Justine gazed wistfully in a tintype, beautiful Bella line, the slender soprano she idolized in her youth. What was Bella's secret, she wondered, as she picked away at a box of truffles on the table. What indeed? A few minutes later, Justine was bent over the wastebasket by the door, gagging and heaving. Eventually, she gave up and removed her finger from her throat. Then, at the bottom of the wastebasket, she saw the roses in the letter, and remembered the rustle and the thunk. She opened the letter and read aloud. You have won my heart, and that is no small feat. Oh, how sweet! No small feat! She shouted in rage. A large feat! Is that it? She crumpled up the note, threw it on the floor, and stomped on it for good measure. Something inside of her had snapped. From that moment forward, she was determined to never sing again. Her voice could go to hell, just as long as she could be beautiful. She was going to be beautiful. No one knows exactly what happened to Justine's death. Not the impresario, who had begged her to come back. Not the reporters, who had begged her to comment. Not Henry, who had been too crushed to face her again. Correct me if I'm wrong. Didn't Henry wanted to be crushed? I mean, come on. Chubby Chaser? Anyone? Hey, why? Ghost song, ghost. No? When Justine's landlord finally let himself in, he was startled to discover a slim and beautiful woman in his tenor's armchair. She was naked, and her throat had been savage. The blonde had painted an inverse bouquet of roses on her chest. The woman held her own vocal cords in her hands. Oh, the end. the woman up. Well it's been so close, it's been so close. Well, that's strange. Someone say you love and she finally can't beat her. Instead of being happy she can't beat her, but she can't do it. But then I can't do it. Who pays the best to her time? Who's born? What a Handsome! That's going to go! Dov'è? Eeeeee... Scusatemi ma... Dov'è che è andato a finire il tizio? Questa è comica secondo me Cioè potrei andarmela a guardare Ma cazzo la nut! Oh! What the? Ma porca questo ascolto non ci sto capendo un cazzo No aspetta eh perché qui non si capisce una mazza quello che sta succedendo Ma vacca! Vaffanculo! Un bestemmio guarda! Ma vaffanculo te il tuo amico Se non so chi cazzo è ma lui Cioè allora questo qui è un altro bug del cazzo in pratica no? Perché cioè il nemico che vi c'è andare avanti va indietro C'è una volta Garzia che finisce sotto terra Poi questo che va all'incontrario Certo Però sembra non crepare mai E' fantastico! E' magnifico qua! C'è un po' mai verbia C'è una cosa che non capisco perché non è ancora morto Non ti colpi più che l'ho tirato giù Dov'è? Ma cos'è? Cos'è che è successo? Spiegatemelo! Io non 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 Di questo combattimento non ho capito niente sinceramente E' bene Ahahahahah F*** Tre Bevendo tre drink di fila si sblocca un trofeo Per un micro come si chiama Anzi si si ubriaco in pubblico E' bello che è Si un quartiere accogliente con dementi che vanno Camminano all'indietro come i gamberi Guardano a destra e vanno a sinistra Non posso venderti qualcosa Tiè Ciao Sevedom Ok quindi adesso Andiamo a inserire Mi sono dimenticato di sto pezzo Ok forse mi danno un'altra gemma rossa Anzi no forse si A me le gemma rosse fanno sempre il comodo Ok forse mi danno un'altra gemma rossa Anzi no forse si A me le gemma rosse fanno sempre il comodo I belli pupicci sulla morte I belli pupicci sulla morte Come si permettono? Manco fossi nel loro mondo. Cosa potenziamo? Stai a divertirsi qua. Che cazzo è che mi ha col fulino? Che sono qui, coglione! Ah, permesso! Io sono magnifico. Tu sei un demone e poi sei morto. Che cazzo di demone? Che cazzo sono? Fermo e so. Ah, vingio, quanti sono fiii! Dovebbero farli sempre così? Metterne tanti stai che ti attaccano? Alla fine di sto gioco, cazzarola, ti metterò sempre entro quattro demonietti dal cazzo che li segui fuori come niente. mentre così almeno c'è un po' di enfasi ah mio mi sono preso un altro bug che non mi fa più uscire mi sono preso la streppa ah beh sono a fine diverso anzi no vai sì più o meno garcia is this the part where i speak now instead of holding my feet shut up hola it's really you isn't it you came for me so happy i can't tell you how long it feels no apologies marcia you're here that's what's important i've got you che limonate che puoi fare con questa qui anche se non ci tengo proprio you want to flirt with danger but then put on your best dress because tonight i have taken you out salvati ma beh che non crepavo però ok questo è andato il prossimo cos'era la foresta il villaggio il mondo demone ma no justin per tutti è una bagasse allora non sapevo perché si capiva già però al prossimo allora ragazzi al prossimo ora da bestemmiare forse perco demone vabbè si vedo ciao ciao ciao